Come mi sono ritrovato nel 2009 a parlare per un mese e mezzo su Facebook con dei completi sconosciuti e delle sconosciute del fatto che la mia ex ragazza mi aveva lasciato, ma proprio dalla mattina alla sera a parlarne senza ritegno, come uno scellerato, come mi sono ritrovato così? Buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato, oggi andiamo avanti e rimpolpiamo questa playlist, discorso sottoterra, per una volta appunto un video dove non ci sono opinioni e tantomeno recensioni, tantomenissimo discorsi sulla narrazione, discorso sottoterra, parlo dei fatti miei. Abbiamo visto una copertina diversa dal solito, c'è una fotografia dove io ho in mano la macchina fotografica e sono con una ragazza, questa ragazza appunto è la ragazza di cui parlerò di questo video. Perché parlare di lei? Perché quando si fa un libro mi sono accorto che ci sono tanti impliciti dentro, ci sono tante stratificazioni di motivi per i quali uno arriva a fare un libro. Quindi pianino pianino, senza fretta, voglio fare appunto questi video dove andrò a raccontarvi tutta una serie di esperienze che inevitabilmente si fanno nella preparazione di un libro, cioè nel farlo, e quando il libro esce. Stiamo parlando di un fumetto che io ho dedicato alla vita dello scrittore Charles Bukowski, il libro questo qua si chiama Goodbye Bukowski, è uscito in italiano con Coconino Press ed è uscito in Francia con Casterman. Quindi facciamo un passo indietro, ritorniamo là, ritorniamo come mi sono ritrovato appunto spettinato, sconvolto a raccontare queste cose, questa esperienza per me assolutamente traumatica, lacerante, su Facebook. Allora, dicevo, io stavo con questa ragazza che si chiama Alice, perché nel dubbio di dire il suo nome e non dirlo, dopo il rischio di sbagliarmi lo dico, lo dico, si chiama Alice, tanto mica do il suo indirizzo o il numero di telefono. Diciamo, la storia era durata quattro anni. Diciamo che questa storia, in rapporto alle altre storie che ci sono state prima e dopo, si può dire una storia molto borghese per il semplice fatto che lei conosceva la mia famiglia e io conoscevo la sua, quindi diciamo che eravamo fidanzati in casa. Abitavamo anche, tra l'altro, non molto distanti l'uno dall'altro. L'uno dall'altra. L'altra dall'uno. La storia era stata molto carina e così idillica, piena di buoni sentimenti, così. Fino ad un certo punto, e racconto questa cosa che precede il momento di quella fotografia di io e lei insieme, stavamo assieme da un paio d'anni e lei recitò in uno spettacolo di teatro e questo le funzionò come scusante per non volermi vedere per un sacco di tempo, tipo due mesi, no? E quindi io, cioè, tipo, la chiamavo e lei doveva sempre avere a che fare con teatro, così, le prove, lo spettacolo, tutto quanto, e non mi voleva vedere. E con tutto che abitavamo a due strade di distanza l'uno dall'altra. L'altra dall'uno. E quindi già questo fu un strano primo sintomo, no? Ci sarebbe, se uno fosse stato presente, si sarebbe accorto che c'era qualcosa che non andava. Oggi, nell'ultimo periodo, si parla molto, no, o non oggi, nell'ultimo periodo, si parla tanto di uomini manipolatori, di rapporti tossici, no? Di narcisista manipolatore. Ecco, ai tempi, nel 2006, tipo nel 2006, non c'era la parola narcisista manipolatore. Erano altri parametri in cui si guardavano gli uomini. Posso dire che io ero un dolcissimo zerbino, quindi, cioè, la manipolazione era come se una formica dovesse immaginare che esiste la luna, cioè, non ce la fa. Ecco, io ero così, io ero una formichina che non sa immaginare che esiste qualcos'altro oltre quello che vede vicino a sé. Quindi, quindi, appunto, in questo periodo di tempo in cui lei faceva soltanto teatro e non mi voleva vedere, io le lasciai tutto il tempo di cui aveva bisogno. Forse addirittura questo periodo durò ancora più di due mesi, forse un po' di più, adesso stiamo parlando di tanti anni fa. Ad un certo punto, però, mi scorciai e, visto che, appunto, abitavo con mia madre e mio fratello, gli dissi con loro, se chiama Alice, ditegli che non le voglio più parlare. Cioè, ad un certo punto io mi ero determinato, mi ho detto, basta, cioè, non mi sta bene, se deve usare il teatro come scusante, che lo dicesse, oppure finita lì, nel senso, io avevo accettato che la cosa potesse essersi conclusa lì, così, nel silenzio, no? E poi, e poi, telefonò e rispose mia madre e le disse, Flavio non vuole parlarti. Nel giro di un quarto d'ora, arrivò a casa mia, piangendo, perché le donne piangono quando devono sistemare qualcosina, piangendo, dicendo che il suo periodo di teatro era finito, insomma, che eravamo tutto come prima, e fece una cosa che farà tante volte nell'arco degli anni, che è un cruccio, dopo poi spiego meglio, mi guardò negli occhi e per l'ennesima volta mi disse, mi disse, ma io voglio sposarti, un giorno avremo dei figli insieme, così. Ecco, quindi lei in quel momento lì, per riacciuffarmi al volo, appunto, ripete questa cosa. L'aveva già detta molte volte, e altre volte la dirà dopo. Ok, quindi c'è stata questa crisi, appunto, risolta bene, perché io ero il peggior zervinaccio di Ravenna, e appunto, e si andò avanti. Si andò avanti, l'estate dopo, fu l'estate dove io scattai quella fotografia, eravamo in centro a fare una passeggiata, quella macchina fotografica era la sua, io ho detto, ma dammela che faccio una foto. E quindi noi siamo riflessi nella vetrina, appunto, di un negozio, c'era uno specchio in vetrina, e quindi per quello che ci sono delle levi sovraimpressioni riflessi in questa immagine. Quindi quella foto blocca un momento di armonia, di felicità, appunto, tra me e lei, e poi si arriva al 2008, 2008, estate 2008, io facevo l'accademia, facevo l'illustratore, lavoravo per delle riviste, dipingevo, insomma, avevo le mie cose, e lei aveva una migliore amica, e cominciò un periodo in cui capitava che magari io le dicessi, ma, non so, ci vediamo sto sabato, non per forza un sabato, in qualsiasi momento, insomma, ci vediamo, e lei diceva, eh ma la mia amica ha bisogno di me, perché questa era una molto problematica, un carattere un po' fragile l'amica, un carattere un po' fragile, molto accollativa, molto bisognosa di attenzioni, così, va bene. E allora, insomma, capitava che io appunto chiedessi con Alice di vederci e lei doveva stare con l'amica, cioè, la mia amica ha bisogno di me, va bene. E bisogno di me una volta, bisogno di me due volte, io sempre zervinaccio, non cambio di una virgola, anzi, questa è una storia di trasformazione, cioè, lei cambia tantissimo in questa storia, si trasforma come vogliono gli sceneggiatori americani, io rimango sempre lo stesso, o meglio, io non cambio dentro, cambio fuori, nel senso che arrivo a fare concretamente questo libro, ecco. Ma tornando qua, bevo anche un altro goccino. l'amica, l'amica, ok? L'amica che ha tanto bisogno di lei, io, appunto, come sempre accetto tutto, si arriva ad una sera in cui siamo a casa sua, in camera sua, e lei mi fa un discorso, mi dice, mi dice, ma se io... la butta sul ridere, mi dice, ma se io avessi la ragazza, tu come reagiresti? Io, dico una sciocchezza, così, non lo so, e poi parliamo di altre cose, e dopo un po' lei ritira, ritira fuori il discorso, dice, ma se io avessi la ragazza? Io comincio a, nel mio essere, insomma, non tanto sveglio, non tanto pronto a cogliere, a cogliere i segnali, comincio a percepire una, lieve vibrazione, e poi mi dico, dico, ma... dico, ma scusa, ma che cosa è questa storia? C'hai una ragazza? E lei, dopo un silenzio, che nei miei ricordi è durato tantissimo, quindi un silenzio denso, un silenzio interminabile, mi fa, sì, sono innamorata, appunto, della mia migliore amica, no? E... io lì ho percepito un vero crepacuore, perché, diciamo, fino a quel momento lì, diciamo, tutto era abbastanza un idillio, nel senso, non c'era mai stato un tradimento tra noi, e soprattutto io pensavo, nella mia ingenuità totale, che il mondo fosse bello, che le persone fossero tutte buone, che ci fossero soltanto tre, quattro persone brutte, ma chiuse in un carcere dall'altra parte del mondo, nel senso, io ero veramente molto ingenuo da questo punto di vista. Non questo per dire, non questo per dire che lei sia una brutta persona, assolutamente no, era proprio soltanto per sottolineare tutta la mia innocenza, e questo crepacuore che ho avvertito, perché, proprio, lei che mi diceva di essersi messa con la sua, con la sua, con la sua amica, aveva comportato per me un traumuzzo, diciamo. Boh, in senso, io continuo nel mio zerbinaggio, quindi, appunto, io non cambio mai, è lei che cambia, e le dico, vabbè, ascolta, lì c'è, cioè, fai quello che vuoi, cioè, viviti sta storia, cioè, che cosa ti devo dire? No, nel senso, che cosa ti devo dire? e diciamo che in un primo momento per questa cosa ci lasciamo, o meglio, lei mi lascia, e lì, ecco, se fossi stato presente avrei congelato le cose così, avrei detto, va bene, a posto, stai con la tua amica, io voglio cercare altre esperienze, voglio cercare altre cose. Dopo un po' che stava soltanto con la sua amica, ha ricominciato a cercarmi e addirittura a tirare fuori quella storia che comunque, nonostante tutto, secondo lei, un giorno ci saremmo sposati e avremmo avuto dei figli. Perché quella cosa mi fregava tanto? Cioè, perché quella frase è questo terribile cruccio per me? Perché io mi sono sempre detto, dico, ma se una persona che la conosci bene da tre anni e mezzo ti ripete una cosa nell'arco degli anni guardandoti negli occhi e ti dice che vuole comunque sposarti e vuole un futuro con te, cioè, quella cosa ti sembra vera perché tu hai fiducia e ti guarda negli occhi e te lo ripete negli anni, no? E questo è il mio cruccio, crucetto, no? Quindi, mi recupera ancora con questa storia e riesce finalmente a fare quello che voleva, cioè avere il completo potere della questione, diciamo, questo è un punto di vista sulla cosa, solo un punto di vista, comunque riesce a tenere a bagnomaria me e la sua amica e quindi quando voleva vedeva la sua amica e quando voleva vedeva me. Io nel frattempo ero in area tesi, dovevo dare la tesi per l'Accademia di Belle Arti. Stringendo un attimo, io avevo scritto una tesi su un argomento, mi c'ero dedicato tanti mesi, tipo otto, tutta questa mese era tanto pronta, però avevo fatto un errore stupido, cioè non avevo concordato la tesi con un professore, avevo fatto quel cacchio che mi pareva. Quando alla fine ho dovuto scegliere il professore, il mio relatore, quell'unico professore rimasto libero era un carattere non facile da trattare, quando andai lì gli dissi questa è la mia tesi, sono otto mesi che la scrivo, lui mi ha detto tu questa la prendi, la butti nel bidone perché il tema si scudo insieme. E quindi praticamente tra la demoralizzazione della tesi ho dovuto riscriverla tipo in un mese e mezzo arrivai a fare una tesi che proprio non me ne fregava niente, ero veramente marciullato, no, marciullato, slang del diretto romagnolo per dire derivato dalla macellazione, cioè ero veramente avevo l'anima triturata e insomma quindi la tesi è andata malissimo, arrivo, mi ricordo questo, pochi giorni prima della tesi incontriamo un mio amico io ero con Alice e questo amico non si ricordava di lei e lei gli dice sono la ragazza di Flavio, io gasatissimo, ah magari, cioè perché dico cacchio se l'ha detto, c'è qualcosa, no, abbiamo qualcosa di concreto per le mani, oh come eri illuso Flavino, arriviamo a che io devo dare la tesi, quindi questa tesi in cui non credo per niente, scritta male, velocemente, su un argomento scemo, deciso dal professore, le chiedo se vuole le chiedo se vuole venire a vedere la mia tesi, mi dice di no per una scusa che ha bisogno di studiare e che era poco concentrata e aveva bisogno quel giorno assolutamente di studiare, dico va bene, quindi io la mattina do la tesi in Accademia delle Belle Arti, la sera torno a casa e penso che, diciamo, penso di essere finalmente alla conclusione di una fase problematica, caotica, così, e mi dicevo adesso, data la tesi, lei l'altro giorno ha detto con il mio amico sono la ragazza di Flavio, dico adesso riusciremo con calma un po' a ricostruire il nostro rapporto con più serenità perché comunque appunto la mia tesi mi aveva dato non poco stress, così, arriviamo a la sera di quello stesso giorno che ho dato la tesi, la chiamo, le dico dai ho fatto la tesi, tutto bene, così ci vediamo, mi dice di no perché deve andare a teatro, il teatro era molto vicino a casa mia, io le dico vabbè, ascolta, ma dai, passa fuori da casa mia, facciamo due chiacchierie al volo, magari ti accompagni fino al teatro, non entro, insomma, io ero, ero molto innocente ancora, credevo appunto con tutta questa storia ci sposeremo, avremo dei figli, eccetera, che appunto fossimo lì, lì, per, no? Altro micro goccino, micro goccino d'acqua, che mi limpidizza la voce, oh, che voce limpida, allora quella sera lì, arriva fuori da casa mia, parliamo, e le vedo una strana ombra negli occhi, le dico, dico, cosa c'è? E fa, mi sono innamorata di uno, chi è? È un attore, è un attore, omosessuale, che stasera recita, aveva uno spettacolo solo lui, io, cioè, mi sento di, tra tutta la stanchezza della tesi, tutti questi mesi di confusione, di stranezza, lì mi è di nuovo crollato il mondo addosso, e che c'è stata questa scena quasi alla muccino, quindi terribile, dove io le correvo dietro, e parlando anche a voce alta, no? Lei andava verso il teatro, io le correvo dietro dicendo, Alice, ma dove vai? Quello lì è un omosessuale, non ti guarderà mai, io ti amo! Che scena! no, nel senso, il patetismo senza un domani, lei disse sta cosa, disse, no, ma io lo vado a guardare, a soffrire, e dico, oddio mio, se per te è un valore andarlo a guardare e soffrire, siamo su due linee di pensiero diverse. Ora, non voglio, appunto, io non voglio muovere una critica ad Alice, ci mancherebbe, nel senso, Alice l'ho amata con tutto il rispetto possibile e, anche se, io Alice ora non riusciamo a parlare, anzi, da tanti anni non riusciamo a parlare, ma, non le porto, non le porto rancore, non le porto rancore perché comunque, come c'è stata una, appunto, trasformazione in lei, lei doveva trasformarsi così e ora, appunto, è una persona molto diversa esteticamente, anche come abitudini, come modi di fare rispetto a com'era, ai tempi. Ok, quindi, qualche giorno dopo, qualche giorno dopo, mi ricordo che ci siamo rivisti, l'ho chiamata, l'ho chiamata e lei, io probabilmente le dissi, vabbè, ma io, se rimanessimo amici mi farei piacere, lei mi disse, mi disse, mi disse proprio, guarda, io non ho più tempo per te, va bene, ok. Ecco che arriviamo a quel terribile mese e mezzo dove su Facebook chattavo con sconosciuti, sconosciuti chiunque e raccontavo questa cosa. Ecco, ecco, tutto quel mese e mezzo raccontando questa cosa, poi non c'era solo Facebook, c'erano anche le persone vere, c'erano le persone che passavano da casa mia, gli amici di mio fratello, gli amici di mia mamma, i miei amici, ce ne parlavo con tutti, tutto questo mese e mezzo non mi è servito a fare un mezzo passo che sia uno, io mi ritrovavo ancora a pensare continuamente a tutto questo stress, tutto questo trauma, il fatto che mi avesse, appunto, lasciato, e in questa maniera che io percepivo come non chiara. Finché si arriva al magico aprile 2009, in cui io, ad un certo punto, mosso da non so che cosa, perché nel frattempo avevo praticamente smesso di disegnare qualsiasi cosa, arrivo, arrivo a dirmi, recupero una mia vecchia idea che avevo avuto a vent'anni, quindi praticamente adesso io ho quasi quarent'anni, e quindi l'idea l'ho avuta vent'anni fa, un fumetto sulla vita di Bukowski, dico, ci provo, faccio una paginetta, io non lo sapevo nemmeno se sarei stato in grado di farlo, posso dire che ecco, io ero col culo per terra, ero veramente sgioggiato da tutta questa storia, mi trovai a disegnare la prima pagina e il miracolo, il miracolo, il meraviglioso potere curativo del fumetto, cioè io mi ritrovai per pochi secondi a non pensare più a tutta questa somma di cose che erano successe che mi avevano lacerato l'anima pochi preziosissimi secondi, questo fu il potere meraviglioso del fumetto. No, volevo vedere se farvela vedere, no, cioè, nel senso, quella che ora è la prima pagina del libro non fu la prima pagina che disegnai, dopo il fumetto si modella, si lavora un po' un po' nel tempo. Quindi, 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 perché, perché è un libro? Perché, perché Goodbye Bukowski? Anche e soprattutto per ritrovare una sorta di equilibruzzo mentale assolutamente insperato. Va bene, nel prossimo discorso sottoterra vado avanti perché poi la storia, la storia prosegue, succedono altre piccole cosine. Per il momento è tutto, anche se la luce del giorno è ancora assolutamente dolcissima, io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte, ciccetti. A presto.